buongiorno oggi è il 21 di luglio 2012 in questi giorni si sentono un po di voci un po di rumors così come di modo dire strani i nostri politicanti stanno continuando a scornarsi e pare che il problema centrale di questi giorni almeno quello che ci vogliono far trasparire come problema centrale probabilmente per nasconderne altri sia questa questa coppia di fatto l'unione tra gay il fatto che le coppie di fatto possano comunque avere gli stessi diritti come giustamente dovrebbe essere a parer mio delle coppie sposate e c'è un gran rumor su questa faccenda ripeto non so se sia dovuto al reale interessamento del problema forse piuttosto serva a nascondere qualcos'altro di più importante ma che ai nostri occhi in questo momento vada tenuto da nascosto probabilmente è più la seconda ipotesi dal mio punto di vista rispetto alla prima sulla prima è triste pensare che nel 2012 si sia ancora arrenati su questo che si vuole far credere sia un problema ma in realtà non è un problema e abbiamo sufficienti esperienze per far sì che ci siano sufficienti dimostrazioni per rilevare che questo non sia un problema l'abbiamo visto con le esperienze del divorzio alla fine abbiamo dato abbiamo dato a tutti la possibilità del divorzio e qualcuno mi dirà sì ma i divorzi sono sostanzialmente aumentati è vero noi abbiamo il dato oggettivo che sono aumentati il divorzi non abbiamo il dato oggettivo di quanti prima che ci fosse la possibilità di avere il divorzio come legge stavano uniti per amore piuttosto che per forza piuttosto che per comodità per convenienza questo dato oggettivo non abbiamo e non potremo mai averlo quindi bisogna andarci piano con l'analizzare i dati se vogliamo parlare di una situazione non puramente tecnica ma di una situazione di amore cioè si sta insieme per amore ok allora se vogliamo dare certezza questi dati dobbiamo avere il coraggio di esporci fino in fondo di dire va bene il divorzio è oggettivamente aumentato ma prima perché non aumentava perché molti non avevano possibilità perché tutti si amavano all'inverosimile allora questo il dato oggettivo che bisognerebbe avere prima di sparare dati solo per una questione di comodo di convenienza io non credo che il divorzio sia stata una bufala io credo che il divorzio sia una possibilità in più che sia stata data alle persone e le persone che hanno voglia di amarsi si ameranno comunque quelle che non non riusciranno o non avranno voglia di amarsi non si ameranno comunque e questo è il punto sostanziale idem per l'aborto l'aborto io posso non essere d'accordo posso non essere d'accordo ma sono d'accordo nel darlo c'è chi rischiava prima dell'aborto c'è chi ha un figlio ma comunque non è desiderato ma chi vuole figli continuerà a volerne chi non ne vorrà continuerà a non volerne avrà una possibilità in più di non averle se un altro non andrà incontro a mal sciagurate ipotesi per non averlo e siamo al punto di prima l'unione di fatto delle coppie chi si ama si ama non è sicuramente la cerimonia in sé che determinerà poi l'amore o determinerà un certo tipo di conduzione nella coppia è sicuramente il cuore l'amore lo torno a ripetere siamo noi all'amore che applichiamo formule che la distorciamo che applichiamo schemi ma l'amore di per sé non ha bisogno né di formule né tanto meno di schemi e tanto meno di regole l'amore è l'unica cosa che riesce a sopravvivere senza regole nel momento in cui ha bisogno di regole non è più amore è inutile minare il camper laia l'amore non ha regole è un'essenza dentro di noi è un'essenza cosmica l'amore è un dono cosmico il cosmo è fatto d'amore e se noi sappiamo ricevere la sappiamo trasmettere non abbiamo bisogno di regole per amare se tu ami una persona non hai bisogno di regole la ami e basta nel momento in cui hai bisogno di regole vuol dire che l'amore non è più autentico o comunque che ha delle altre interferenze che lo stanno disturbando e allora necessitano delle regole probabilmente per allontanare queste interferenze ma queste interferenze è possibile eliminarle se si ha se si possiede la vera essenza dell'amore senza regole nel momento in cui noi vogliamo mettere mano vogliamo mettere delle regole non stiamo già più parlando del vero amore stiamo parlando di una situazione di sopravvivenza di una situazione nostra ripeto all'amore non ha regole non ha schemi l'amore l'amore è libero come l'aria che respiriamo certo noi mettiamo anche regole all'aria che respiriamo ormai la inquiniamo quindi poniamo delle regole ma di fatto l'aria è aria l'etere è etere e l'amore è amore allo stesso modo non ha bisogno di regole se io amo una persona la capisco la comprendo la amo sento il suo amore lo ricevo glielo ritrasmetto è un interscambio non servono regole noi le mettiamo infatti la parola alla parola amore non riusciamo più ad attribuire il significato che ha la distorciamo la usiamo dismisura la usiamo quando ci fa comodo sotto la parola amore spesso identifichiamo anche ciò che non dovremmo e nonostante siano passati 2012 anni dopo cristo quando si parla di prostituzione siamo ancora qui a dirci a il mestiere più vecchio del mondo ma se mercifichiamo la nostra sessualità o il desiderio di appagarla vuol dire che veramente interiormente siamo ancora poverini e abbiamo tanta ma tanta strada ancora da fare per evolverci e appunto siamo ancora qui a dirci ma coppie di fatto coppie gay coppie di qua coppie di la se due persone si si mettono in comunicazione perché si amano si amano punto e basta il resto è tutto un voler accomodare e qualcuno mi potrà dire ma la regola di dio le regole le regole di dio vengono da sé se si si chiama vengono da sé non necessitano del nostro intervento semmai con il nostro intervento potremmo solo sporcarle certo non migliorarle infatti ne abbiamo la dimostrazione ne abbiamo la dimostrazione i nostri i nostri interventi le nostre regole cosa hanno portato hanno portato semmai all'imboccatura alla strada dell'evoluzione ma non sicuramente al traguardo e allora la regola numero uno al di là di tutti questi discorsucci da bar discorsucci da 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 piazza da da paese che i nostri politici stanno tanto cercando di far giungere la nostra vecchia in questi giorni ma ripeto secondo me per nascondere qualcosa di più di più grosso per farci digerire qualche altra porcheria magari che ne so una legge elettorale sporca un qualcos'altro sicuramente ce lo stanno nascondendo io credo che veramente bisogna cominciare a guardare questi discorsi con gli occhi veri dell'amore con quella che è la pura essenza dell'amore cioè l'amore non ha regole nel momento in cui mettiamo delle regole non parliamo più allora di amore parliamo piuttosto di regole per far sì che tutto diventi adattabile alla nostra società al nostro alla nostra abitudine al nostro modo di vivere abitudinario e alla nostra religione ma per favore non parliamo più di amore l'amore ripeto non ha regole non ha schemi se le mette da sé le regole l'amore non ne ha bisogno capisco che è una cosa difficile se vogliamo da digerire e capisco anche per arrivare a questa convinzione bisogna veramente scomporre il nostro mosaico abitudinario magari a volte le nostre ideologie e allora vi invito a leggere libri che parlano di spiritualità libri che parlano di ipnosi regressiva libri che parlano del vero amore in questi libri ci sono storie di vero amore e allora li riuscirete a capire l'essenza del vero amore e capite che l'essenza del vero amore non ha bisogno di regole esterne se l'è detta da sé nel momento in cui ha bisogno di regole esterne non è più vera essenza d'amore non siamo più connessi non stiamo più amando con l'energia del cosmo vi lascio con questa riflessione che la potrei anche approfondire di più ma voglio che siate voi stessi perché io non voglio vedete non voglio convincervi che sia così siete voi che dovete capire mediante dei passaggi mediante delle letture mediante l'interiorizzazione con voi stessi cioè il pensiero che riflette in voi stessi spendete alcuni minuti per riflettere con voi stessi come sapete amare ma ancora più importante come sapete amarvi perché per riuscire ad amare bisogna comunque prima riuscire ad amarsi se no non è possibile amare mettetevelo bene in testa questo nonostante non ve lo dicano ve lo dico io e chi sono io nessuno uno che ha semplicemente un suo pensiero una sua idea ma io ve la dico e voi elaborate la perché siete degli elaboratori come me se non vi amate non riuscite ad amare quindi la prima regola fondamentale dell'amore è imparare ad amarsi imparare ad amarsi per imparare ad amare allora riflettete imparate ad amarvi e vedrete che poi alla considerazione alla consapevolezza che l'amore non ha regole ci arriverete voi stessi senza troppi giri di parole senza troppi proclami i proclami lasciamoli ai nostri bravi politici a chi si sente un un proclamatore di regole a chi ha voglia di inventare delle regole lasciamo a loro i proclami per noi che crediamo nell'essenza dell'amore che abbiamo voglia di crederci non c'è bisogno di alcun proclamo l'amore vince sempre vince comunque e ci impiegherà ancora magari del tempo per portare l'essere umano all'evoluzione giusta ma vincerà sempre come è sempre vinto buona giornata e buon weekend a tutti